Amici a tutti ben ritrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di Trentino più in questa puntata parliamo di semplificazioni amministrative, quelle che sta avviando il governo Monti ma che in Trentino sono state in un certo senso anticipate già in qualche modo dall'Ateneo Trentino, dall'Università di Trento. Ne parliamo in studio con Mario De Paoli, dirigente responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Buonasera e benvenuto. Ecco allora, semplificazione, questo termine è particolarmente in voga in questo momento. Come si sta muovendo l'Università di Trento appunto per così essere più veloce, più snella nelle pratiche amministrative burocratiche? Sì, sicuramente l'Ateneo di Trento ha avviato in questi ultimi anni una serie di progetti molto importanti tesi a ottimizzare e semplificare i propri processi di erogazione dei servizi amministrativi nei confronti di utenti interni o esterni, in questo senso anticipando poi quelle che sono state poi degli adempimenti normativi previsti dagli interventi recenti normativi, non da ultimo la riforma sulla semplificazione del governo Monti. Quindi l'obiettivo principale è quello di sburocratizzare i processi amministrativi per rendere più agevole l'interazione dell'utente con la pubblica amministrazione, non dimenticando comunque un obiettivo prioritario per l'amministrazione pubblica che è quello di avere delle ricadute positive in termini di contenimento dei costi. Quindi tutte le strutture gestionali dell'Ateneo sono state coinvolte in questo processo e perseguono questo obiettivo strategico posto dall'Ateneo e di anno in anno all'interno di un piano di miglioramento dei servizi vengono declinati a livello più operativo questi obiettivi alle singole direzioni in un'ottica di semplificazione e sburocratizzazione dei processi. Ci fa degli esempi concreti? Sì, inizialmente sicuramente l'attenzione è stata posta nei confronti dell'utente per eccellenza, ovvero lo studente. Da anni quindi lo studente può accedere e iscriversi ai corsi di laurea o alle scuole di dottorato utilizzando esclusivamente le procedure di iscrizione online. Successivamente abbiamo sviluppato sistemi di erogazione dei servizi nei confronti dei nostri utenti interni, la comunità dei professori, dei ricercatori piuttosto che del personale amministrativo. Ad esempio per quanto riguarda più nello specifico la direzione del personale e dell'organizzazione abbiamo consolidato da anni un sistema di gestione delle presenze online, quindi abbiamo eliminato praticamente nel 70% dei casi l'invio di carta e di giustificativi di assenza al proprio responsabile, abbiamo favorito di conseguenza l'interazione in tempo reale tra collaboratore e superiore dialogando in tempo reale attraverso il sistema web, prevedendo un'autorizzazione online e nello stesso tempo abbiamo dato la possibilità al responsabile di avere tutta una serie di dati di presenza e di assenza del servizio, quindi dati gestionali che favoriscono anche un'organizzazione del lavoro ottimale. Da anni non abbiamo più le buste paghe, quindi c'è anche una ricaduta in termini ambientali perché non si stampano più risparmio di carta sicuramente, ma non dimentichiamo anche una ricaduta in termini di organizzazione interna del lavoro, quindi l'addetto non è più impiegato sulle attività più operative che vengono svolte invece dal sistema online informale. Ed ora c'è l'ultima novità che è quella per chi è interessato a candidarsi a lavorare all'interno dell'università, anche qui c'è l'iscrizione online. Sì, dal primo gennaio chi vuole iscriversi ad un concorso per ora per profili amministrativi può accedere a questa nuova modalità di iscrizione, quindi anche in questo senso abbiamo voluto favorire il più possibile l'interazione dei candidati con la pubblica amministrazione, quindi candidato che con un semplice clic può consultare il bando, compilare online la scheda di partecipazione, allegare tutti i titoli necessari. Non dimentichiamoci che siamo in un contesto molto burocratico, molto formale, quindi la procedura di semplificazione spinta che abbiamo adottato ha riscontrato anche delle difficoltà poi anche di adeguamento a quello che prevede la norma. Comunque da qualsiasi postazione internet un candidato interessato a queste posizioni accede, può pagare direttamente tramite home banking o tramite carte di credito, quindi alleggerendo nel contempo tutta l'attività di back office dei nostri colleghi che si occupano di gestire le procedure di iscrizione online. L'obiettivo è quello di portare a regime nel 2012 anche questa modalità per il personale docente e ricercatore. Qual è la soddisfazione che avete ottenuto da parte appunto di chi ha a che fare in qualche modo con l'Università di Trento? Quali sono i riscontri principali? Sì, all'interno di questo ciclo è evidente che diventa fondamentale per l'amministrazione saper cogliere qual è il livello di soddisfazione espresso dall'utente. Quindi nello specifico noi abbiamo progettato dei sistemi di rilevazione e di soddisfazione nei confronti dell'utente interno che valuta tutti i servizi che vengono erogati dalle varie direzioni. è un esercizio formativo fondamentale anche quello di mettersi nei panni dell'utente, quindi per uscire da questo principio di autoreferenzialità per cui il punto di vista di che eroga il servizio deve essere per forza di cose migliori diventa fondamentale prevedere dei questionari, strutturali dei questionari di soddisfazione da parte dell'utente che in tempo reale può interagire anche con l'amministrazione per segnalare quelli che possono essere delle criticità o dei punti di miglioramento. Un'ultima cosa, immagino che questa semplificazione non si fermi qui ma avrete altri progetti per il futuro. Sì, come dicevo, sicuramente per quanto riguarda la parte di mia competenza l'intendimento è quello di dare la possibilità anche al personale docente e ricercatore di utilizzare questa modalità online. Tenga presente che in questo caso le modalità sono un po' più complicate e basta pensare a tutta la documentazione, quindi tutti i titoli che il personale docente e ricercatore può produrre. Comunque l'obiettivo è andare in questa direzione, quindi semplificando ulteriormente i processi, i sistemi di servizio andando a offrire soprattutto nei confronti dei nostri utenti interni servizi che sfruttano pieno le potenzialità offerte dal web. Quindi insomma un Ateneo estremamente moderno. Ci fermiamo qui, grazie per essere stato nostro ospite e l'appuntamento con Trentino Più è per domani sera. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.